Due giorni dal ritorno della Serie A2, Cuneo è pronta per la prima giornata, una trasferta a Brescia. Uno dei protagonisti di questa stagione sarà ancora Lorenzo Codarin. Intanto, quali sono le tue sensazioni in questo momento? In questo momento sento che la squadra è pronta, pronta per iniziare un campionato, un campionato che sarà molto difficile perché ci sono tante squadre che si sono attrezzate per il salto di categoria. Quindi siamo pronti a giocare settimana in settimana delle finali, perché saranno delle vere e proprie battaglie e noi daremo tutto, sapendo che comunque ci sarà da soffrire, che giocheremo i set punto a punto e daremo il massimo per portare a casa sempre più punti ogni settimana. Brescia è una squadra che conosci, hai giocato, è stata anche la tua stagione migliore a livello di punti. Che partita ti aspetti? Che squadra ti aspetti? Brescia è stata una delle società che si è attrezzata di più in questo campionato e per questa stagione e sicuramente mi aspetto una partita diversa da tutte le altre passate. hanno dei giocatori forti, giocatori che hanno calcato il campo della Serie A1 negli ultimi anni, quindi hanno molta esperienza e sicuramente ci metteranno in difficoltà. Noi staremo lì, soffriremo e insieme come gruppo, come squadra riusciremo a uscirne. E con la scorsa stagione è stata anche la tua seconda, più produttiva a livello personale, ma forse meno a livello di squadra. A fine stagione è stato scontato per te rinnovare con Cuneo? Beh, ormai Cuneo è diventata la mia seconda famiglia e è difficile pensare a un'altra società, a un'altra maglietta su di me, insomma. E quindi è stato veramente molto facile da entrambe le parti e sicuramente anche per il risultato ottenuto l'anno scorso perché comunque sia io che la società vogliamo fare bene, vogliamo fare meglio, vogliamo fare sempre meglio e quindi dotiamo entrambi per lo stesso obiettivo e continueremo a farlo. Che è stata per te e per la squadra, come ti stai trovando come il nuovo gruppo? Il nuovo gruppo è un gruppo affiatato, abbiamo cambiato anche quest'anno la maggior parte dei giocatori, però visto che il lavoro fatto sul mercato è stato di livello, di livello importante, si è già visto nell'Amichevoli, ma lo provo in tutti gli allenamenti. Mi sento tranquillo, sicuro quando sono in campo con i ragazzi, anche con i più giovani. Sono stati pescati dei giovani promettenti, secondo me ne sentiremo parlare a lungo. Quest'anno a livello di obiettivi la società è stata un po' più cauta, ma ci sono obiettivi tuoi personali? Ma personali no, io penso sempre alla squadra, alla società. Secondo me qualsiasi squadra, qualsiasi società che si iscrive al campionato di A2 lo fa per vincere il campionato. C'è poco da fare, non dobbiamo nasconderci e tutte le squadre che sono iscritte a questo campionato di A2 vogliono vincere e andare in Superlega, quindi anche Cuno lo vuole fare come ogni anno e per quello parlavo di punto di battaglia, perché veramente tutte le squadre quest'anno il livello si è alzato molto e quindi tutte le squadre daranno battaglia set dopo set, quindi anche sotto 2-0 la partita sicuramente non è finita. Quindi sarà difficile, sarà una stagione lunga, difficile, dovremo arrivare pronti per i play-off dove si giocherà tutto. C'è un messaggio che vuoi lasciare ai tifosi e ai cittadini di Cuneo? Beh, comunque sappiate che abbiamo bisogno di voi, perché comunque il vostro supporto è sempre importante per noi e noi daremo sempre il massimo, come so che lo farete voi sugli spalti.